Un'aquila sciupona si fa raggiungere nel finale dal San Marino, incassa solo un punto al termine di una gara in cui sicuramente, come sempre, ha espresso una grande mole di gioco e tante occasioni da gol, senza però chiudere nel momento opportuno il match. Il primo sussulto è di marca rosso-blu, con Bolgini che ci prova con un tiro a giro ma risponde Fall. Questo al sesto, al decimo sempre lui, altra girata centrale, ma anche qui Fall dice no. Al quattordicesimo è Valenti, protagonista con un tentativo dalla distanza troppo debole che non impensierisce l'estremo ospite. Al ventesimo, Brenci crossa per Luci, colpo di testa del centrocampista rosso-blu, ancora una volta il portiere del San Marino c'è. Al ventitresimo, un brutto scontro di gioco che coinvolge Cevoli, che impatta contro un compagno di squadra e cade a terra, per qualche secondo resta privo di conoscenza, finirà in ospedale per accertamenti dopo il colpo alla testa. Al suo posto, mister Orecchia mette nella mischia Zechieri. Da sottolineare che Cevoli era entrata a posto di Fantini, infortunatosi durante il riscaldamento al Gran Sasso, che doveva partire invece da titolare, ironia della sorte. Al ventinovesimo è Brenci, in evidenza, su assist di Sieno. Fall respinge con i pugni. Al quarantatreesimo ancora l'Aquila con Boldrini, tiro a giro, finisce al lato di poco. Al quarantatquattresimo Valenti per Rucci, ma il portiere di casa esce e salva. Al quarantaseiesimo si vede il San Marino con Enrico che tira in porta. Brenci deve in angolo. La ripresa si apre con un San Marino più convinto. Velenoso tentativo dal limite. Al quarto, Farroni si salva in angolo. E ancora al sesto, Enrico dai 25 metri. Farroni para in due tempi. Gli allenatori operano diversi cambi e cambiano anche modulo. 3-4-3 per l'Aquila e 4-3 per il San Marino. Per l'Aquila una mossa vincente perché Ibe, dopo aver fallito prima con un colpo di testa il vantaggio, al sedicesimo segna. Fendente di Valenti in porta, palo, carambole in aria, Ibe trafigge Fall. Al ventitreesimo è il San Marino che cerca il pareggio. Farroni in volo plastico esce e anticipa Zechieri che era ben appostato davanti alla sua porta. L'Aquila macina occasioni. Prima al ventiquattresimo è Marra servito da Valenti. Fall para come può. Poi al trentasettesimo sponda di Ibe per Valenti che cerca il sigillo personale. Si coordina bene e tira, ma spedisce alto sulla traversa. Al quarantesimo, Zechieri recupera un pallone a centrocampo. Serve Sieno che percorre tutto il campo e serve Ibe che da ottima posizione manda fuori. È il preludio del pareggio del San Marino. Un cross dalla destra, neanche troppo pericoloso, diventa però letale per l'Aquila. E 5 la spedisce in rete, gelando lo stadio Gran Sasso. Finisce così con un'Aquila che ha tanto davvero da recriminare. Non solo la palla, le tante occasioni che abbiamo sprecato dal punto di vista offensivo, ma soprattutto con queste partite è dura da commentare. Credo c'è stata una squadra che ha fatto partita, che ha creato una decina di palle e golle. L'ha fatto, l'ha sbloccata, non ha concesso niente all'avversario, se non ha un cross da tre quarti innocuo. Siamo qui a commentare un altro pareggio e a mareggiarci il sangue più che altro perché il risultato è importante per noi. Quando dico noi, dico i giocatori e chi è venuto allo stadio. Sicuramente anche tornarci a casa così ci dà ancora più rabbia, più insoddisfazione e ci fa capire che siamo una bella incompiuta. Siamo un tempo equilibrato, poi l'Aquila è cresciuta, soprattutto quando è passato 3-4-3, ci ha messo in difficoltà, ha fatto gol. Dopo siamo stati fortunati a non subire il raddoppio perché se avessimo subito il raddoppio in due o tre situazioni che l'Aquila ha creato, sicuramente il risultato avremmo fatto più fatica a portarlo in porto. Poi dopo siamo stati anche bravi a non disunirci, è stato un momento della partita che in dieci minuti abbiamo creato tante situazioni dentro l'area.